A Pesaro i vaccini per over 80 si faranno al centro sociale 900 Pino Monaldi. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Matteo Ricci, il quale ha precisato che gli anziani dei comuni di Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavuglia, Monte Labbate, Vallefoglie e Monbaroccio si dovranno recare al centro sociale della Celletta. Questo posto è stato scelto oggi dopo il sopralluogo degli assessori all'operatività Enzo Belloni alla coesione Mila della Dora insieme ai dirigenti dell'Azur. Spero davvero, aggiunge il primo cittadino, che ci sia un'adesione di massa perché vaccinarsi è un dovere etico, morale e civile nei confronti di tutti. Ci si potrà prenotare a partire da domani, venerdì 12 febbraio alle ore 14, sia sul sito del governo o sia telefonando al numero verde 800 00 9966. Nell'operazione che nelle Marche sarà dal 20 febbraio al 12 marzo saranno impegnati medici e infermieri dell'Azur e la protezione civile. Nei prossimi giorni poi verranno valutate eventuali modifiche alla viabilità della zona durante le giornate di vaccinazione.